Ciao, sono Chiara Tallin del blog maltaforever.com e ci troviamo qua a Marte City per intervistare un italiano che vive qua e lavora qua, che si chiama Matteo. Matteo Bregante, ciao. Raccontami chi sei, come fai di lavoro, da quanti anni sei qua. Allora, sono Matteo Bregante, faccio il cuoco e sono qui da sei mesi ormai. Grazie a tutti.